Il FAI Fondo Ambiente Italiano Intesa San Paolo SPA in partnership promuovono l'ottava edizione del censimento I luoghi del cuore, questo censimento che si rivolge a tutti i cittadini italiani e stranieri che vogliono salvaguardare alcune delle più importanti risorse del nostro paese e dei luoghi appunto come dice il nome dell'iniziativa. Tra questi luoghi nella nostra zona ce n'è uno bellissimo ma che purtroppo attualmente non è accessibile ai cittadini. Parliamo del castello di Branduzzo e siamo qui con Ilaria, una delle proprietarie della struttura. È molto degradato e avrebbe bisogno di molti interventi, cosa che noi cerchiamo di fare qualche piccolo intervento perché la struttura non degradi ancora in modo peggiore, però purtroppo ci vogliono dei fondi molto maggiori di cui noi non possiamo disporre insomma. Quindi attraverso il FAI... Non è abbandonato, ecco questo voglio ribadire, ecco, non è abitato piuttosto perché non è più abitabile nel senso che bisogna rinnovare tutto, impianto elettrico e poi effettivamente ci sono delle parti che sono un po' a rischio. Ecco, questo è... Attraverso il FAI voi state raccogliendo delle firme, qual è l'obiettivo di questa raccolta firme? Il primo della raccolta firme è di entrare in una seconda graduatoria che dovrebbe dare la possibilità di un eventuale sostegno non penso economico perché a dire la verità non ho ancora ben capito come si svolga questa seconda graduatoria. Comunque, se non altro, il FAI potrebbe dargli, i luoghi del cuore potrebbero dargli una notevole visibilità attraverso aperture, manifestazioni di vario tipo, insomma, ecco, è un posto più che dimenticato o abbandonato, è un posto che è stato non preso in considerazione dall'istituzione nonostante che sia un monumento nazionale. Quindi noi ovviamente invitiamo tutta la cittadinanza attraverso i canali ufficiali FAI ad informarsi e partecipare a questa iniziativa in modo da poter rendere accessibile a tutta la cittadinanza e valorizzare ancora di più questa struttura così bella, così affascinante e così importante. Grazie signore Laria. Grazie a lei.